Grazie, avanti cani e portiamo per cortesia Claudia, vieni che facciamo le donne di fatica, portiamo questo, lo portiamo al centro, ci piace lavorare, vai! Abbiamo anche il tavolino, verbone grande mole nero, verbone grande mole albicocca, piccolo marrone, piccolo nero, shih tzu, ancora, guarda, ne entrano ancora, perfetto, guardate quanti, bello, bello, avanti, ecco che applaudite, bravi, perfetto, chiuso così col piccolo chihuahua, qui come prima il vincitore tornerà tra poco, mentre prego tutti i levrieri di prepararsi nel pre-ring, sarà l'ultimo raggruppamento di questa giornata e poi il gran finale. Grazie a tutti. Un giro per cortesia, grazie, applausi, chiaramente, ale, barboni, avanti, avanti, guardate che belli, questi sono cani da compagnia, sono cani assolutamente deliziosi e che aiutano, veramente aiutano, tante persone sole. All'attenzione del sudice, il gran, ah no, fa già la preselezione, perfetto, barbone grande mole, barbone toy, l'attesa, mattese, bull francese, pechinese, non vedo, ah, il papillon. Basta, grazie, gli altri possono lasciare il ring, grazie mille. Il chine, 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 il chine. Allora, sui lato per il grande barbone. dopo il grande il piccolino sempre nero l'asar maltese bulle francese bulle francese pechinese papillon e il chines termina la sfilata avanti e indietro grazie 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 ci mettiamo dall'altra parte che così vi riprendono meglio vi dispiace grazie così fate un altro giro e la gente vi vede al terzo posto il pechinese sul podio al secondo posto il maltese applausi signori lo rivedremo fa pochissimo veramente questioni di minuti ed è il barbone grande mole nero guardate che svei soggetti mi auguro i levrieri siano pronti è l'ultimo raggruppamento e poi ripeto il gran finale il best in show abbiamo i levrieri pronti lasciamo ancora un minuto ma lo rivedremo tra pochissimo questo barbone accogliamo con un gran il best in show